Sono 18 le mostre itineranti del Consiglio regionale che possono essere richieste in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Nella sezione mostra del sito del Consiglio è consultabile e scaricabile il catalogo con le esposizioni disponibili, tra le quali matite di guerra, satira e propaganda in Europa, piazze del Piemonte, la donna immaginata, l'immagine della donna, sport e sportivi piemontesi come non li avete mai visti e l'agroalimentare in Piemonte, i brand che hanno fatto la storia.